Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a faglie di desì, canto per segnare, la Roma sta a vincere, canto per segnare, tutti mi fanno sognare, e il chirurgo mi dirà, a Sabrina non ti posso confiare, fra un po' vai su a Mongolfiera, con Davide Maggio. Oh ma che stiamo in onda? Oddio che ho fatto? Non è quello che mi ricerzi. Allora, amici di Davide Maggio e Davide Maggio, ciao, vi voglio bene dei cori, come vedi, stavo a fare una prova così per dedicare a te una cazzoscina, però mi sa che mi sono rovinata perché stavo già in onda. Allora che dite, con questo bel collegamento, visto che l'altra volta mi avete commentato ai morti, ho voluto far bisse, questa situazione, cioè da guida di B. Allora, e parto subito senza perdermi il chiacchiere, qua il Siricone Costa mi devo dare regge. Dunque, a un passo dal cielo l'istinto dell'uomo, lo so io, pure bello. Rai 2, grande prix a Budadi, ma che è il codice fiscale? Ah, è la formula 1, vabbè. Rai 3, che tempo che fa? Che tempo che fa? Ma il nome del programma è? Vabbè, che tempo che fa? Solo il nuvo non se ne frega niente. Condotto da Fabio Fazio e cosa? Agna Pietta, Luciana Littizietti, la mia scrocchiazza più preferita. Poi, sul canale 5, Ergabibbo, Jerry Scottico, io canto. Su Italia 1, Lucignolo, che serve Pinocchio, lo so io perché. Rai 3, tempesta da fuori e i tampa, che se si sprechano. E sulla 7, niente, popò, de meno che, Gray Sanato mi condotto da Asia Argento. Voi ho detto tutto, ragazzi. Lo voglio bene. Ciao. Oh, mi raccomando, www.davidemaggio.it E lì in domani c'è sta 10 di mattina tutti i risultati dei programmi fatti a sera. Lei che qua stiamo a mangiare pizza e figli. Anche se mi piacerebbe moltissimo a me mangiare pizza e figli.